ciao a tutti e benvenuti sullele king tv come vedete oggi faremo lo spacchettamento dei trulli tales queste bustine ce la mandate il sito www manuelcante.it che ringraziamo per questo omaggio ragazzi vi invito a andare a vedere il loro sito in cui vendono bustine e non soltanto perché potete trovare anche card singole dell'adrenaly se dovete finire la raccolta che manca soprattutto card speciali tipo top player blitz diamante via dicendo stella le potete trovare su questo sito anche le plus tipo gli allenatori c'è addirittura il lotto completo degli allenatori da poter acquistare su questo sito e in più potete avere lo sconto del 5% inserendo il codice che trovate qui sotto in descrizione allora queste bustine in particolare i trulli tales si trovano 50 bustine a 21 euro e 99 su questo sito quindi se volete fare questa raccolta o se dovete completarla non sapete dove acquistare le figurine potete acquistare direttamente le bustine da questo sito più c'è la raccolta di batman dell'ottantesimo anniversario 50 bustine a 37 99 l'album completa 64 99 si perché ragazzi potete anche acquistare gli album completi di set su questo sito paperino sempre album completa 69 99 50 bustine a 38 99 quindi prezzi veramente veramente buoni quindi io vi invito a andar vedere questo sito più ci sono c'è veramente tantissimo sulla raccolta dei calciatori perché poi quelle sono le cose che vanno di più possiamo dire ragazzi parliamoci chiaramente e trovate anche lì di tutto dalle raccolte più nuove raccolte più vecchie sia le figurine singole degli anni molto molto vecchi tipo visto che hanno anche delle figurine degli anni 60 70 via dicendo gli album le bustine i box e quindi ragazzi veramente ne vale la pena andare a fare una visita su questo sito e acquistare da loro anche perché ragazzi sono precisissimi con la spedizione sito raccomandatissimo perché sono veramente puntuali su tutto imballaggi perfetti quindi mi raccomando andate a vedere questo sito allora iniziamo subito aprendo queste bustine iniziamo dalla prima vediamo cosa esce fuori i trulli talis sicuramente li conoscete tutti ragazzi perché è un cartone animato molto molto bello che parla di questi ragazzi possiamo dire che abitano in questi trulli e che hanno dei poteri magici è veramente un bellissimo cartone animato e poi che parla anche della nostra penisola quindi che molto educativo anche ragazzi quindi andate a vedere anche il cartone animato perché ne vale la pena o se avete un fioletto una fioletta insomma invitateli a vedere questo cartone che se non sbaglio va in onda su rai io io adesso non vorrei sbagliare però mi pare proprio il su rai io io come vedete i trulli sono proprio al centro del cartone ci sono quasi in tutte le figurine anche il cappello di personaggi è fatto a forma di trullo qui c'è la scritta drulli talis logicamente poi come in tutti i cartoni c'è anche il cattivo che adesso vi farò vedere se uscirà fuori la figurina penso sicuramente uscirà fuori la figurina del cattivo eccolo qua lui è il cattivo del cartone con sto barbone anche lui come vedete è un cappello a forma di trullo qui ha creato questa macchina chissà per fare che cosa mi sa che ce ne sono due di figurine si che poi spesso nei cartoni che ho visto con mia figlia questi personaggi hanno anche a che fare spesso con la cucina con le cose da cucinare con i prodotti tipici della puglia soprattutto ma dell'italia in generale non 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 Grazie a tutti. qui c'è una torta come potete vedere ecco qui siamo arrivati alle ultime cinque bustine qui c'è un piccolo cattivo non so se è il figlio il nipote o se è lui che si è trasformato da bambino un po' 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 qui c'è una pizza ecco qui ragazzi abbiamo finito lo spacchettamento dei trulli tales ringraziamo ancora www.manuelcante.it per questo omaggio di queste bustine vi invitiamo ancora ad andare a vedere il loro sito ragazzi e iscrivervi al loro sito per avere gli aggiornamenti delle prossime uscite che usciranno su www.manuelcante.it e se siete interessati ad acquistare queste bustine o le altre bustine vi ho elencato perché veramente ne vale la pena perché prezzi buonissimi venditori seri spedizioni veloci e ragazzi veramente imballi impeccabili io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti